Ultima corsa per l'Ippica pugliese in ginocchio a causa dei tagli ad un settore in agonia sull'intero territorio nazionale. Il governo centrale da ultimo ha cancellato 50 milioni di euro di cui 5 alla Puglia. Una mazzata finale dopo la drastica riduzione delle scommesse sulle corse dei cavalli azzerate da gratte vinci e videopoker. I proventi degli scommettitori rappresentano storicamente l'unica fonte di sostentamento per gli operatori del settore. Un migliaio sono i cavalli da trotto allevati e tre gli ipodromi presenti a livello regionale. L'unica alternativa è la macellazione degli animali, dicono sconsolati i rappresentanti di categoria che hanno consegnato per protesta al presidente Emiliano le chiavi delle scuderie. La Puglia storicamente è una delle poche regioni ad avere anche delle razze autoctone come il murgese, l'asino, quindi c'è una tradizione. La Puglia in questo caso si è fatta portavoce per prima e questa nostra iniziativa di oggi che è pacifica è soltanto una denuncia. Il governatore ha garantito il suo intervento presso il Ministero dell'Agricoltura. C'è una posta quasi rilevante nel bilancio dello Stato che però uccide per sempre un settore nel quale obiettivamente l'Italia si era fatta onore in questi anni. Noi cercheremo di trasmettere questa istanza perché siccome sono pochi ed evidentemente dal punto di vista elettorale non contano molto, cercheremo di amplificarla come sto facendo con molti altri settori qui in Puglia. Spero che questa attività di amplificazione non sia pericolosa per il Presidente della Regione Puglia.